Si chiama Francesco Solano, ha 38 anni, abita a Tortona, era stato fermato per un normale controllo da una pattuglia dei carabinieri che lo avevano notato passeggiare con fare sospetto nei pressi di una pizzeria nella parte nord della città. I militari si sono avvicinati all'uomo per chiedergli i documenti ma lui ha estratto un coltello dalla tasca e si è avventato contro uno di loro ferendolo. Gli altri lo hanno subito bloccato e portato in caserma e lo hanno arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. E' già stato processato con rito direttissimo e condannato a quattro mesi di reclusione. Le ragioni che lo hanno portato a opporre resistenza al controllo e a coltellare il carabiniere non sono state chiarite. Nel frattempo il ferito è stato giudicato guaribile in otto giorni. Ancora cronaca, le hanno trovate prive di sensi nella loro abitazione. Entro breve tempo sarebbero passate dal sonno alla morte ma sono state salvate dai vigili del fuoco di Novi Ligure. Ora si trovano ricoverate nella camera iperbarica all'ospedale San Martino di Genova dove dovranno restare per alcuni giorni. Protagoniste della vicenda due donne di 44 e 53 anni che vivevano al terzo piano di un condominio nel centro cittadino di Novi Ligure. I vigili del fuoco sono stati allertati dai colleghi di Genova, contattati a loro volta dal padre di una delle due donne che abita nel capoluogo Ligure e che era preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Si sono quindi precipitati sul posto, hanno forzato una finestra e sono entrati nell'appartamento dove hanno trovato le coinquiline in condizioni piuttosto gravi. Con il passare delle ore sono state dichiarate fuori pericolo. Secondo una prima ipotesi l'intossicazione da monossido di carbonio sarebbe da attribuire al cattivo funzionamento di una caldaia che è stata posta sotto sequestro. E arriva da Casale Monferrato il primo provvedimento contro l'inquinamento atmosferico. È stata infatti firmata dal sindaco Giorgio De Mezzi l'ordinanza per la circolazione a targhe alterne per i giorni di domani e dopodomani. La concentrazione di PM10, le polveri sottili inquinanti nell'aria ha superato nei giorni scorsi i limiti consentiti dalla legge e la decisione di chiudere al traffico il centro città sembra pertanto essere stata inevitabile. Il primo cittadino ha inoltre invitato ancora una volta i casalesi a utilizzare maggiormente i mezzi pubblici e un uso più consapevole dei riscaldamenti. La circolazione sarà interdetta a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico dalle 9 alle 17. La targa è legata al giorno del calendario con il quale ha inizio la restrizione, quindi domani 12 gennaio. Circoleranno le auto con l'ultimo numero della targa pari. Giovedì 13, quelle con l'ultimo numero della targa dispari. Gli appuntamenti, la prima serata del 2011 del Salotto del Mandronio, il talk show condotto da Massimo Brusasco con il commento musicale di Gianni Naclerio e Franco Rangone sarà domani alle 21.30 al Circolo Casetta di via San Giovanni Bosco ad Alessandria. Il colore tema della puntata sarà il grigio, saranno ospiti Fabio Artico e Marcello Marcellini, rispettivamente centravanti e dirigente dell'Alessandria Calcio, Dovanni Barosini, presidente del Consiglio Provinciale, l'esperto di meteorologia Matteo Robbiano, Bruno Pesce, presidente del Comitato Vertenza Amianto e le sorelle Giussi Cristina e Maria Celeste Cangemi, entrambe modelle che hanno partecipato a importanti concorsi di bellezza a livello nazionale. E così per il momento da Alessandria e provincia è tutto, noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio.